Cosa hanno detto di loro? Italia 30.000 all'Olimpico, in silenzio. Non una carta, non un rumore, non un grido. Lo stadio olimpico ieri era così. Non un gesto scomposto, una sigaretta accesa, una lattina, solo bibbie aperte, persone che prendono appunti, bambini silenziosi. L'unità, a proposito di un'assemblea dei testimoni di Geova a Roma. I testimoni di Geova sono fermamente convinti che il creatore conosce meglio di chiunque altro i principi da cui gli esseri umani dovrebbero farsi guidare. Isaia 48, 17 e 18 Pertanto, quando vengono illogiati a motivo della loro condotta, danno il merito a lui. In Matteo 5, 16 Gesù disse Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre eccellenti opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Uno internazionale dei testi International Convention